Appendice della 100 km è assolutamente la Straseregno che ormai è diventata una tradizione, è vero che non fa parte della cultura seregnese come la 100 km però è bellissimo vedere queste centinaia e centinaia di famiglie quindi migliaia di persone gareggiare con spirito sicuramente sportivo ma soprattutto con la voglia di stare insieme e di divertirsi in questa giornata fantastica. Un ringraziamento particolare va soprattutto oltre che alle associazioni sportive che ci hanno dato una grossa mano anche alle scuole di Seregno che sono state fin da subito attive nel coinvolgere tutti i loro alunni nella Straseregno. In questa maniera abbiamo potuto parlare di sport che va a includere tante persone e tante famiglie, che è proprio l'obiettivo che ci volevamo prefissare probabilmente lo abbiamo raggiunto e anche da questo punto di vista abbiamo intenzione nel prossimo anno di ulteriormente migliorarci.